Ragazzoli se volete potete supportarmi su Fortnite nella posita sezione supporto un creatore con il codice free trattino gaming con il 3 al posto della prima e e ogni vostro prossimo acquisto supporterà anche il mio canale. Tutto il ricavato verrà utilizzato per fare dei giveaway e dei contest in live sempre sul mio canale. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, oggi siamo tornati su Fortnite per un nuovo video ragazzoli. Sono già usciti i video inerenti alla prima sfida diciamo quella di trovare la stella segreta, adesso andiamo a fare cerca pezzi di puzzle sotto i ponti e nelle caverne 0 su 7 altri 5 punti bonus del pass battaglia e con questo arriveremo al livello 99. Quindi ragazzoli come se non mi piace iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale, utilizzate il mio codice supporto a un creatore partita giocatore singolo e iniziamo. Ok ragazzoli andiamo nel posto più pericoloso di Fortnite, qual è? Pinnacoli pendenti, perché la prima stella, il primo pezzo del puzzle, scusate, sta proprio a Pinnacoli pendenti sotto il ponte di Pinnacoli pendenti. Eccoci qua ragazzoli che atterriamo dentro Pinnacoli, non ci frega niente prendere armi per il momento. Qui c'è il primo pezzo del puzzle, stamp, facciamo un bello screenshot, prendiamo il primo pezzo del puzzle e a questo punto ci dirigiamo subito dal secondo pezzo sperando di riuscire a farcela senza che nessuno ci killi male. Tra l'altro ragazzoli il secondo pezzo è talmente tanto vicino che ce la dovremmo fare, mi son preso un po' di roba, andiamo subito. Eccoci qua ragazzoli, secondo pezzo del puzzle all'interno della grotta che sta vicino però a Pinnacoli pendenti. Eccola qua, questa grotta qui la vedete, vedete anche il puntino sulla mappa, entrate qua dentro e potete tranquillamente trovare il secondo pezzo del puzzle, stamp. E raccogliamo il secondo pezzo, andiamo al terzo. Già ho segnato il punto del terzo pezzo del puzzle che si trova qui in questa caverna, la caverna dello Yeti insomma. E da qui ne avremo altri due abbastanza vicini e quindi ci siamo, siamo in fase di completamento della missione, fidatevi non ci vuole tanto. Eccoci qua ragazzoli, atterriamo e raccogliamo il prossimo puzzle, siamo a 3 su 7. Ci andiamo a prendere qualche oggetto di movimento se riusciamo a prendere in verità qualsiasi cosa e poi ce ne andiamo a prendere subito il quarto pezzo del puzzle. Eccoci qua ragazzoli al terzo punto in cui potremo andare a trovare il nostro puzzle. Dove è stare in questa zona? Eccolo qua infatti. Facciamo un bello screen al nostro puzzle. E lo raccogliamo. No, scusate, devo scendere giustamente. Ok no, lo possiamo anche fare da sopra, siamo a 4 su 7. Ecco qua ragazzoli, altro pezzo che si trova vicino a palmi... Ok. Scendiamo. Bellissimo sto coso. Questo è il punto della mappa, lo vedete qua, la zona in cui il fiume fa questa chicane. Raccogliamo il pezzo, siamo a 5 su 7, ce ne mancano soltanto 2. Altro punto ragazzoli in cui si trovano i puzzle è questo qua, diciamo tra il deserto e la parte pianeggiante, vicino al fortino dei pirati. Quindi prendete il sesto pezzo e adesso andiamo a cercare l'ultimo. Qui ragazzoli c'è l'ultimo pezzo. Dove siamo? Vicino a Condotti Confusi, il ponte che collega a Condotti Confusi e questa zona qua pianeggiante. Prendete il pezzo e completate la missione. Ragazzoli, andiamola a vedere. Wow, carino, un alien. Per questo video è tutto, vi ringrazio altissimo per la visione e lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se vi è fatto, di condividere il video e di fammi scelte persone. Passatevi tutti i link in descrizione, Facebook, Instagram e Telegram. Ciao a un prossimo video, ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.